Oltre 500 grossetani si diplomano in innovazione tecnologica. Sono coloro che hanno seguito iniziative e corsi di formazione organizzati dall'associazione Guru at Work. Simone Paradisi. Diplomi in innovazione tecnologica per oltre 500 grossetani sono quelli che il comune di Grosseto e l'associazione Guru at Work hanno consegnato a coloro che hanno seguito corsi e stage capaci di alfabetizzare all'informatica o di approfondirne alcuni aspetti. Tra le iniziative realizzate negli ultimi otto mesi, il Linux Day, i corsi sui mestieri del web e quelli su consigli e trucchi per imparare ad usare web e social network in sicurezza. Alcuni di questi corsi erano stati concepiti in modo specifico per le scuole. È dal 2007 che organizziamo qui a Grosseto, con la collaborazione del comune di Grosseto, corsi che hanno a che fare con gli scopi della nostra associazione. Quindi software libro, tutto quello che è legato alle licenze libere nel campo dell'arte, della cultura, di tutte le opere di ingegno. E sono ormai quattro anni che in questo periodo in genere, a giugno, insomma prima dell'estate, organizziamo una cerimonia dove consegniamo degli addestati di ringraziamento più che altro per tutte le persone che hanno partecipato ai corsi che organizziamo durante l'anno. Roberto Comandi è un insegnante di scuola media superiore ed ha voluto rendere partecipi i suoi studenti dei principi appresi durante il corso da lui frequentato. Le cose più interessanti, per quello che sarà fatto, erano soprattutto la parte sulla legalità online, che è una cosa che mi tocca da vicino, come interesse, quindi anche i vari modi nuovi di potersi interfacciare al mondo del lavoro.